nome del signore ciao mamma buongiorno ragazzi siamo al nostro favoloso giucco oggi 25 settembre giovedì nel 2014 buongiorno ragazzi buongiorno ragazzi il nome del padre del figlio dello spirito santo l'eterno riposo della loro signora rispendo ad essi la luce perpetua riposi in pazienza il nome del padre l'eterno riposo l'eterno riposo il nome del padre l'eterno riposo l'eterno riposo il nome del padre dell'eterno riposo il nome del padre Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.